Porta la tua azienda in questo video. JAPTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot.japtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Uno spettacolo a cielo aperto, un palcoscenico grande come una piazza. Si è svolta domenica pomeriggio a Voghera la saga di Buricinela, il tradizionale spettacolo carnevalesco inizialmente previsto per il 28 febbraio ma rimandato di una settimana a causa maltempo. Ma se otto giorni fa il problema erano le piogge, in questo inizio di marzo sono state le temperature gelide. I tre gradi di ieri pomeriggio non hanno comunque scoraggiato i tanti appassionati, soprattutto genitori con bambini a seguito, attirati da spettacoli di intrattenimento coriandoli e stelle filanti. La maschera di Buricinela vestita di verde per rappresentare la scarsità di Danaro fa la sua comparsa voghera nel 1800 e viene rappresentata per la prima volta durante il Carnevale del 1876 grazie al contributo artistico del Circolo della Luna, un gruppo di intellettuali vogheresi di cui faceva parte l'allora giovanissimo poeta Alessandro Maragliano. Buricinela è in persona ai vizi della comunità che sul palco vengono confessati a padre Barbera, accompagnato guarda caso da una bottiglia di vino dell'Oltrepo. La purificazione avviene proprio attraverso il testamento, pronunciato in dialetto rigorosamente vogherese, ed il rogo fino alla rinascita, caratterizzata da un animo pulito e sentimenti buoni da condividere con tutta la città. La purificazione avviene proprio attraverso il nostro corso rinascita che si è manifestata sul balconcino di Palazzo Gunela, privo ormai da qualche giorno del suo inquilino più illustre. Ciao, Lughera! Alla che quest'anno ti ho fatto! E non saranno stati pochi quelli che, ascoltando le parole di Buricinela, hanno subito pensato alle attuali vicende politiche vogheresi. Al Carnevale è una festa di passaggio, perché si passa dall'inverno all'estate, e adesso ci arrivo, aspetta, e allora essendo una festa di passaggio, si rinnovano le stagioni e si ribalta tutto, e allora in questo ribaltarsi, al Carnevale ogni scherzo vale. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117, o scrivi a spot.jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.